Buongiorno a tutti, sono Gian Piero Carta e sono il vice sindaco del Comune di Trinità. In questi mesi, con sorpresa, ho appreso delle dimissioni di tre membri dell'attuale CDA di Costa Paradiso, tra cui quella del vice presidente Fernando Mulas. Non voglio entrare in merito ai problemi interni della comunità, perché ritengo che in un periodo così difficile come questo attuale sia necessaria la massima collaborazione tra tutte le istituzioni che agiscono e operano sul territorio. Dico solo che a differenza del precedente CDA, il Comune di Trinità in questo caso non è presente né all'interno del CDA né all'interno del CDR e forse questa mancanza si sta facendo sentire. Costa Paradiso rappresenta per l'economia del nostro territorio una fonte importante ed un'attrazione turistica di grande rilievo. Noi come Comune vogliamo riprendere Costa Paradiso e riportarla possibilmente agli antichi fasti, risolvendo il problema della fognatura per poi concentrarsi sui servizi e fare in modo di essere competitivi con le altre località balnearie, anche perché a livello di requisiti, cioè coste, spiagge e in senature non abbiamo nulla da invidiare a nessuno. Grazie a tutti.